Musica Quella delle buche stradali a Favara è un problema che mette seriamente a rischio l'ingolumità pubblica. Dimensioni delle buche a parte siano esse grandi, medio o piccole. La rete stradale urbana risulta fortemente compromessa e di questo l'amministrazione comunale ne è pienamente consapevole. Molti cittadini, consci delle difficoltà economiche degli enti locali, sembrano abituarsi alla convivenza con il problema. Rassegnazione però non comune a tutti, come nel caso della signora Maria Cicotto, che ha voluto la presenza delle nostre telecamere nella sua strada, ovvero il Viale Stati Uniti. La signora Maria, da poco rientrata a Favara dopo 33 anni di residenza in Germania, crede non sia giusto che dal comune non intervengano per tamponare il problema. Davanti alla porta di casa sua, infatti, è presente una grossa buca, non secondario per la signora. È il danno provocato al prospetto del muro di recinzione dovuto agli schizzi d'acqua sollevati dai mezzi in transito che nei giorni di pioggia non vedono la buca e ci passano sopra. Del problema, ha detto la signora Maria, è stato più volte informato all'ente comune. La risposta ricevuta è che purtroppo al momento non ci sono soldi per rattoppare le buche. A dire il vero, nel tratto di strada segnalato, le cosiddette scaffe sono diverse. In passato, ci ha detto ancora l'aziana abitante, le avevamo riparate a nostre spese. Ha segnalato il problema al palazzo comunale? Ce l'ho detto a tutti i chiedeggiani, che ho detto che in rapporto non posso trattare già in giro. E signor, non c'è niente, non c'è niente. Come c'è tanta indicazione di cosa, subito veniamo a mettere un basto, già le cose. Ci sono stati meno quanti, ma c'è un basto, qua ci metto 10, mi dice. No, ora, prima di ora. Ora c'è un giorno fanno. Ora che ho più, è tutto coso, è fino all'erocchio, è già in giro. Come faccio i vieni? E arrivavo qua, mi prendeva le neve, mi fanno fare la camomilla, mi prendeva le ucce. E da così, come si va avanti? E io non mi sento proprio. Già in passato l'avete un po' giustato a voi? La prima volta ci hanno venduto un basto con questa signora di qua, questa cabana. No, è un giocchiamento, ma meno, lo fanno tutto, qui c'è tutto già. Ora, già, poi cominciarono a rompere tutto qua. E allora che si rompono i cani, sono consumata io, che ho ancora. Come faccio i vieni? L'auspicio è quello che chi di competenza possa dare seguito alla sua segnalazione.